Mi sta dicendo che entro la fine di marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili qui in Lombardia? Sano già iniziate le vaccinazioni per i vulnerabili. Dottore, io non ne ho trovata una, non ne ho trovata una di persona. Negli ospedali lo stiamo già facendo. Verificheremo davvero. Verificheremo, dottore. Verificate, poi che ci mettete? Che cosa ci mettete? Criticate Bertolaso, tanto mi pare che sia uno sport abbastanza normale. Ci conosciamo da troppo tempo. Io non me la prendo. Non è una critica. Fate quello che volete. Assolutamente. Dottore, senta. Va bene, arrivederci, buon lavoro. Dottore, le posso fare ancora una domanda? Grazie.